Il commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha fatto tappa a Teramo per alcuni incontri istituzionali. Il primo è stato con il prefetto Fabrizio Stelio a seguire ha incontrato presso la sede della provincia di Teramo alcuni sindaci del territorio terramano-aquilano per un confronto sui piani strategici della ricostruzione. Sì assolutamente un invito che mi è stato fatto dal presidente della provincia e di buon grado ho accettato chiaramente doverosamente per fare il punto sulla situazione della provincia ho anche colto l'occasione per incontrarmi con il prefetto Stelio in maniera tale da valutare ciò che è più direttamente di competenza dell'ufficio di governo. Non ultimo anche l'impegno che dovremo esprimere per quanto riguarda i controlli di legalità nei cantieri insomma una giornata di lavoro con cui iniziare una settimana che si annuncia molto molto impegnativa ma che come dico io deve necessariamente guardare alla ripartenza e alla ripresa dei lavori del terremoto come un obiettivo assoluto. Al centro del confronto c'è stato anche lo stato dell'arte della ricostruzione, l'andamento delle attività delle imprese ed ili nelle aree terremotate e il super bonus 110%, argomenti al centro del rapporto sulla ricostruzione del centro Italia con dati aggiornati a maggio 2023. Sì assolutamente, da questo punto di vista mi sto molto impegnando per quanto riguarda la sollecitazione che abbiamo rivolto a primari istituti bancari affinché garantiscano dei plafon utili a sbloccare questa cessione dei crediti d'imposta che sta obiettivamente rallentando molto l'avvio e lo sviluppo dei cantieri. Purtroppo quello che è obiettivamente un vantaggio amministrativo per il terremotato sta rivelandosi invece un motivo di rallentamento. Ci stiamo lavorando e nelle prossime ore vorrei dire avremo i primi protocolli di intesa perché è necessario assolutamente lavorare da questo punto di vista. Poi stiamo lavorando sulla modifica anche del circolare delle agenzie delle entrate che appunto regola l'abbinamento fra contributo sisma e super bonus. Insomma davvero giornate dense ma noi non possiamo mollare, dobbiamo concentrarsi perché dobbiamo assolutamente passare come dico io dalle norme ai cantieri, aprire i cantieri e ridare normalità alle nostre comunità.